Onorevole Vignali, durante l'assemblea di Assaredo, la parte pubblica, ha toccato due punti importanti. Uno è la novità del bonus ristrutturazione per gli alberghi, che può dare grande impulso all'industria dell'arredo italiana. E l'altro è l'importanza della formazione tecnica, sia per i mestieri del legno, sia per quelle figure che si vanno a occupare di export per il legno-arredo. Sulla prima questione si è riuscito a inserire nel decreto turismo-cultura, che prevedeva un credito d'imposta per il restauro e ristrutturazione degli alberghi, e anche la parte relativa agli arredi. Quindi ci dovrà essere un decreto attuativo, adesso il provvedimento verrà approvato definitivamente entro il 25 di questo mese al Senato. Poi ci sarà un decreto attuativo, ma sarà veloce, quindi crediamo che questa sia una misura fondamentale, anche perché se noi vogliamo riqualificare la nostra offerta turistica, innanzitutto questo passa dagli arredi. Quindi se vogliamo avere alberghi accoglienti, dobbiamo partire da qui. Per quanto riguarda la seconda è assolutamente così. Noi siamo un paese straordinario che ha il suo punto di forza nella capacità di fare. La capacità di fare però si impara, si impara a scuola e nel passato aver liceizzato tutta l'istruzione è stato un grande errore, sia per il sistema produttivo, che è un sistema manifatturiero, che ha bisogno di competenze pratiche, ma anche nei confronti degli stessi ragazzi. Perché ci sono ragazzi che hanno un talento teorico e ragazzi che hanno un talento pratico. Perché ha un talento pratico è meglio che lo mettiamo immediatamente a farlo. E poi non è detto che, visto la situazione economica, non abbia più soddisfazioni chi è bravo a fare che quello che ha un talento teorico. Lo stesso vale per l'export. Noi abbiamo bisogno di allevare dei giovani che conoscano le lingue, che conoscano le lingue anche dei paesi più lontani, perché il mondo ormai è diventato grandissimo, non è più un mondo piccolo, abbiamo bisogno soprattutto in certe aree del mondo di avere persone che conoscono quei paesi, che conoscono cosa fanno le nostre imprese e che sanno parlare quelle lingue. Quindi io credo che sarebbe una grande rivoluzione se facessimo una grande riforma degli istituti tecnici e professionali, insegnando veramente cosa significa fare, di più mettere una materia obbligatoria che è compasso d'oro, cioè raccontare, spiegare ogni anno per filo e per segno chi ha vinto il compasso d'oro, dal design alla vendita, con la produzione nel mezzo e con abbondanti corsi di lingue. Questa è la migliore garanzia anche per il futuro, si parla di garanzia giovani, la garanzia migliore è poter valorizzare i talenti che i nostri giovani hanno, soprattutto quando, come nel caso del saper fare, si sposano con un sistema produttivo che non solo è pronto ad accoglierli, ma sarebbe felice di accoglierli.